ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con un nuovo video e come vedete oggi siamo qua con una nuova recensione di una diciamo nuova anche se non è proprio nuova ma per me è nuova una nuova monster eye purtroppo come sapete le monster eye ormai sono abbastanza morte insieme alle ever after eye con l'unica differenza che pare ufficiale il fallimento comunque la chiusura del brand ever after eye ma non è ancora ufficiale la chiusura del brand monster eye perché forse ci sarà ancora qualche uscita molto basic molto semplice delle monster eye ma le ever after eye da quello che si è capito sono ufficialmente chiuse purtroppo per la mia disperazione perché come sapete io le ever after eye le adoro in ogni caso qualche tempo fa vi ho fatto vedere che ho acquistato questa Rochelle Goyle della linea Shriek Wrecked non so come si lega bene in inglese non so la pronuncia ma dovrebbe essere tipo pirati mostruosi vi avevo chiesto se volevate una recensione in molti mi avete detto di sì e appena ho avuto tempo quindi ora sono qua a farvi la recensione quindi non perdiamoci in chiacchere passiamo subito a vedere la sua scatola più da vicino e nel dettaglio come vedete la scatola purtroppo anche delle monster eye è diventata molto molto semplice anche se comunque devo dire che risulta ancora un sacco carina la prima cosa che notiamo è che praticamente tutta la parte davanti è fatta di plastica trasparente che ci fa intravedere all'interno la bambola in questo caso ovviamente la bambola non c'è perché l'ho già deboxata infatti se vedete la scatola è un pochino sgangherata essendo un pezzo di plastica incollato su un pezzo di cartone però appunto quando noi l'acquistiamo vediamo praticamente tutta la bambola all'interno lo sfondo vediamo che è praticamente l'interno di una barca con questa rete fatta tipo a ragnatela qui a lato troviamo ovviamente il solito logo monster eye qui sotto invece troviamo l'artwork del personaggio che abbiamo scelto e il suo nome in questo caso ovviamente rochelle goyle con qui a lato una bandiera con sopra un teschio che è ovviamente il simbolo monster eye però fatto ancora più piratesco e qui in basso troviamo un forziere con dentro dei soldi con dentro delle monete d'oro entrambi i lati della scatola come vedete sono completamente trasparenti quindi direi di andare subito a parlare del retro sullo retro vediamo per prima cosa ovviamente l'artwork intero del personaggio che devo dirvi che è veramente molto molto bello secondo me è fatto veramente benissimo a parte che io ho una predilezione per questo personaggio perché è una delle mie monster eye preferite a livello di bellezza ma trovo che questo artwork sia veramente molto molto bello qui vediamo questa pergamena con sopra scritto appunto shriek wrecked come cavolo si dice in varie lingue infatti c'è quello che ho detto più piratos mostruosos pirates mostres e mostro naufragio che non so penso siano tipo portoghese spagnolo e non lo so ma non c'è in italiano perché a quanto pare questa versione non è stata creata per il mercato italiano ma quelle che si trovano come la mia sono solamente di importazione ci tengo a dirvi che l'ho acquistata in un negozio semplicissimo di giocattoli non l'ho acquistata online quindi credo che da qualche parte riuscirete anche voi a trovarla il negozio in cui l'ho trovata si chiama center casa è un negozio di casalinghi ma con un grandissimo reparto di giocattoli e l'ho pagata solamente 14 euro e 90 ma andando avanti qui sotto ritroviamo il suo nome e ci dicono che è la figlia dei gargoyle la bandierina di nuovo qui questa specie di barca penso che sia un pezzo di nave con all'interno delle monete d'oro e qui sotto le solite informazioni che a noi non interessano detto questo la scatola come avete visto è molto semplice ma carina ma passiamo subito a vedere la cosa che a noi interessa di più in assoluto ed eccoci qua con questa rochelle goyle in questa versione piratessa fuori dal box direi di cominciare subito come sempre dal suo viso come vedete il suo viso è coperto in gran parte da questa benda trasparente che l'è stata messa che le copre praticamente un occhio e devo dire che un dettaglio che mi piace un sacco perché la rende ancora più pirata di tutto l'outfit in generale e se riuscite a vederlo questa benda è fatta praticamente sembra quasi fatta a forma di cuore ma con dei tentacoli che poi vedremo si riprenderanno in quasi tutto il suo outfit ovviamente le passa ai lati della testa io credo che non andrò a rimuoverlo per paura di perderlo e di non riuscire più a farglielo stare sopra l'occhio comunque come vediamo i suoi occhi sarebbero comunque di questo color quasi arancione con un sacco di ciglia la sua pelle ovviamente è fatta effetto pietra quindi è grigia con tutti questi puntini proprio come se fosse un gargoyle le sue sopracciglia sono ovviamente grigie molto definite anche abbastanza spesse e come vedete sulle labbra porta un bellissimo rossetto rosa semplicemente rosa ma anche quasi un pochino lucido infatti se provo a muoverla vedete che riflette un sacco la luce come vedete i suoi capelli qui davanti hanno questa frangia che purtroppo è un pochino sparata perché più di una volta ho cercato di alzare questa benda per riuscire a vedere meglio le sue sopracciglia e soprattutto il suo viso per intero e quindi si è un pochino rovinata ma come vedete comunque i suoi capelli sono rosa con queste mescioline verde acqua e sono raccolti in una coda molto alta e devo dirvi che sono veramente molto belli così riuscite anche a vedere quanto sono lunghi anche se lei ha la coda quindi li ha raccolti in una coda sono veramente lunghissimi sui capelli indossa anche questo piccolo accessorio che era attaccato alla scatola ma che ho scoperto dopo un bel po' che andava attaccato ai capelli ed è praticamente un fiocco fatto con i tentacoli di un polpo è tutto marroncino di questo marroncino un po' sembra quasi perlato non so se in videocamera rende ma vi giuro che sembra leggermente perlato questo colore ed è molto bello e devo dirvi che rende tantissimo l'effetto dei tentacoli di un polpo infatti non dico che mi fa senso ma quasi come outfit indossa una magliettina e una gonna che sono due pezzi separati anche se sembrano un pezzo unico perché la cintura lo fa sembrare un pezzo unico e come vedete la magliettina è di questo color verde acqua ed è praticamente una semplice canotta con attaccato sopra questo pezzo di stoffa che le passa proprio sopra le spalle e anche sopra il seno bianco con queste righine sempre verde acqua dello stesso colore ovviamente del tessuto sotto mi piace veramente un sacco non so dirvi se mi rende l'idea del pirata o cosa però mi piace veramente tantissimo al collo come vedete porta questo fularino nero con dei pois sempre verde acqua e nella parte inferiore possiamo vedere la sua gonna che è composta da due strati anche se sembrano tre purtroppo questo tulle nero con i brillantini è attaccato a questo strato di stoffa verde acqua e quindi sono uno strato unico l'unico strato effettivamente separato è questo qui nero con tutti questi decori fucsia e verde acqua si ripetono tantissimo i colori che abbiamo visto sui suoi capelli quindi il rosa e il verde acqua e il tutto è arricchito da questa cintura fatta di corde che vorrebbe appunto ricordare delle corde con cui attaccata un'ancora ovviamente questa come avete visto è dorata le sue braccia come vedete sono molto particolari perché la parte finale non è del colore della sua pelle quindi non è color pietra ma è il colore praticamente che abbiamo visto prima sul fermaglio nei capelli perché vogliono rappresentare appunto dei guanti lei in questa versione indossa dei guanti che come vedete sembrano qui dei tentacoli di un polpo devo dire che quando devono fare i guanti e colorano direttamente il braccio al posto di infilare un guanto di stoffa è una cosa che io apprezzo tantissimo perché facendo così si riesce a dare un dettaglio veramente molto più preciso confronto appunto a quelli di stoffa che nelle bambole sembrano quasi sempre dei guanti da forno ed è una cosa che a me non piace particolarmente ho cercato di zoomare ancora di più per mostrarvi e spero che si riesca a vedere i dettagli che hanno applicato a questi guanti che sono veramente fantastici perché come potete vedere qui sul lato della mano e intorno a tutte le dita e anche qui sotto e sopra l'avambraccio ci sono tutti questi puntini che stanno praticamente a significare una cucitura della pelle o comunque del tessuto che è stato usato per fare questi guanti vi devo dire che dal vivo rende molto di più che in videocamera e sono veramente una cosa bellissima sono un dettaglio che non mi sarei aspettato e che fortunatamente mattel in questo caso ha voluto comunque aggiungere se mi conoscete sapete quanto sono fissato con le scarpe perché sono un dettaglio che mi piace da morire se fatto bene e in questo caso ragazzi devo dirvi che ho scelto di acquistare questa bambola proprio per le sue scarpe che trovo veramente fantastiche sono degli stivali alti fin sotto al ginocchio fatti con questa texture di legno come se fossero stati incisi nel legno con delle stelline stampate delle corde che passano intorno al polpaccio ma soprattutto hanno dei dettagli minuscoli che adesso cerco di mostrarvi come spero si riesca a vedere perché sono veramente piccolissimi guardate confronto al mio dito qui sulla parte frontale praticamente sulla caviglia c'è questo nastrino questa strisciolina con scritto monster eye veramente bellissimo il plateau è fatto con tutte queste palline credo che stia a significare tipo uno scrigno del tesoro ma soprattutto ragazzi guardate il tacco purtroppo meglio di così non riesco a farvelo vedere spero che si riesca comunque a vedere bene è praticamente una mini rochelle goyle credo o comunque una figura femminile con un timone in mano ed è fatta veramente benissimo provo a farvela vedere anche girandola ed è bellissima è un dettaglio che ho veramente amato alla follia e quando l'ho visto ho detto questa bambola deve essere mia ovviamente è uguale per tutte e due le scarpe e come vedete qui c'è proprio il retro con tutti i capelli bombati le gambe e non lo so queste scarpe sono veramente tra le più belle che io abbia mai visto su una bambola l'unico accessorio che indossa che non vi avevo ancora mostrato perché la cintura il fulare le scarpe vi ho già mostrato tutto è questo cappello questo cappello cerchietto non saprei bene perché davanti sembra un cappello ma se guardiamo di lato è praticamente un cerchietto comunque questa cosa in testa fatta della stessa plastica dello stesso colore delle scarpe del fiuchetto sui capelli fatta sempre con questi tentacoli e qui in mezzo un vascello con delle vele e vi devo dire che è bellissima con questi tentacoli è veramente stupenda è fatta benissimo infatti ho il terrore di rimuoverlo perché ho paura che poi non stia più così in posizione ma è veramente bellissimo in più ho visto adesso mi ero dimenticato se vedete qui sul suo orecchio indossa anche un orecchino dorato che è anche un po nascosto da questo copricapo di tentacoli ed è semplicemente un orecchino dorato con sopra sempre delle tipo palline delle protuberanze penso che anche quelle vogliano ricordare un pochino i tentacoli di un polpo insieme a lei purtroppo non arriva nessuno stand infatti quello che ho utilizzato adesso che mi ha anche fatto un po sclerare perché non regge continuava a farmi cadere la bambola indietro praticamente avrà la schiena fracassata e le ali distrutte perché sì mi sono dimenticato ma sicuramente lo saprete tutti che questa bambola roscella sempre le sue ali da gargoyle che sono stracarine e si possono rimuovere quindi si dicevo che non arriva con nessuno stand con nessun libricino con nessuna cartolina arriva però con due accessori uno è questo gargoyle piccolino che devo dire essere fatto veramente benissimo per essere così piccolo infatti vedete che è veramente molto molto piccolo però ha un sacco di dettagli qui davanti potete vedere che sotto al muso sotto a questa faccia un po demoniaca ha tutto il suo peletto inciso nella pietra ha tutte le piume scolpite la codina in fondo l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire il fatto che come vedete di una plastica abbastanza gommolina e molto molliccia però devo dire che è fatto benissimo a parte lo sguardo che non lo so è un po terrorizzante ma forse è proprio l'effetto che volevano ottenere però per essere così piccolo è fatto veramente benissimo e oltre a quello arriva con questa borsa anche questa veramente molto bella fatta a scrigno tutto completamente dorato con qui davanti un lucchetto qui sopra un polpo scolpito tutta con questa texture di legno il retro ovviamente è diverso perché per fortuna è stato fatto bene e come vedete da questa piccola cerniera qui sopra lo possiamo anche aprire e una volta aperto sinceramente non so cosa potremmo inserire al suo interno però è carino il fatto che ce lo lasciano aprire che sia appunto utilizzabile proprio come borsetta direi di metterglielo qui sperando che lo stand non crolli quindi ragazzi questa era rochelle goyle in questa versione che non so pronunciare quindi pirati mostruosi una cosa del genere vi devo dire che a me piace veramente tantissimo non l'ho ancora toccata l'ho tirata fuori della scatola ormai quasi un mese fa ma non l'ho ancora pettinata proprio per farvela vedere così com'è appena fuori della scatola e come avete visto è praticamente già perfetta è fatta benissimo per essere una delle ultime linee uscite delle monster eye è veramente fatta molto molto bene e vi devo dire che non me lo aspettavo credo che il suo viso sia il viso già del reboot se non mi sbaglio adesso ho un attimo di vuoto ma scrivetemelo voi qui sotto nei commenti che sicuramente mi saprete aiutare e insieme capiremo se il viso del reboot o il viso originale ma dovrebbe essere proprio quello del reboot perché è semplice con poco trucco quindi ragazzi se la trovate in giro assolutamente acquistatela se trovate altre monster eye di questa linea e vi piacciono acquistatele perché appunto si trovano ad un prezzo veramente basso comunque 14 euro 15 euro per queste bambole sono assolutamente un prezzo fantastico detto questo spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate di lei se ce l'avete se avete acquistato altre monster eye di questa linea io come sempre vi ricordo di lasciarmi qui sotto un like di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di seguirmi anche su facebook e su instagram io ragazzi intanto vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao